Sul gas abbiamo messo in sicurezza il paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. A dichiararlo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani che aggiunge avremo problemi sui prezzi ma se il 20 si conclude bene sul price cap avremo risolto la situazione. Non sarà possibile purtroppo togliere la sofferenza a famiglie e imprese, sottolinea il ministro. Il price cap l'avevamo proposto mesi fa, la Commissione europea è stata lenta. Il ministro ha spiegato poi che probabilmente il price cap sarà un intervallo entro il quale il TTF potrà variare senza avere questi picchi di volatilità assurdi. A breve ci sarà una riunione informale dei ministri dei paesi più energivori. Credo che si possa giungere ad una soluzione di compromesso che contribuirà a limitare fortemente i costi.